allora con un quarto d'ora di ritardo accademico per colpa mia per colpa di di un computer di una di un aggiornamento per colpa di lo scopriremo solo e non imprecando né sacramentando quindi le mie scuse e passo subito la parola a Giorgio Giorgio tocca a te e poi insomma visto che l'aspettiamo si è un po' rivolto al contrario adesso ci hanno aspettato loro e quindi innanzitutto ciao ciao Luca anche se in realtà è un'ora e mezzo che te stiamo parlando e buonasera a tutti la cosa bella è che la settimana scorsa Pietro consigli eh della persona che ci che ci aiuta un po' la che fa da da ghost consigliere ghost no consigliere fantasma vi abbiamo accolto a casa nostra con largo anticipo questa volta ci siamo fatti aspettare quindi a finestra abbiamo fatte tutte una volta siamo partiti puntuali una volta in anticipo stavolta in ritardo quindi abbiamo fatto proprio il il completo del delle situazioni che si possono creare però ce l'abbiamo fatta quindi io eh intanto a tutte le persone che eh mi hanno scritto su messenger nel frattempo e emidio in particolare diceva ma non la fate questa sera e altre persone eccomi, eccoci ci stiamo, problema risolto Luca, via Allora via con due cose prima di passare, perché come leggete la leggenda, Remo Maggetti altri 15 campioni, parleremo del tabellone LNP, anche se splafonderemo più di un'ora, vuol dire che non riusciamo a caricare il video su Instagram, ma pazienza, non l'abbiamo fatto neanche la volta scorsa quindi non sarà un problema le 16 leggende dello sport rosetano meritano quest'altro, però iniziamo da una bella notizia Giorgio ieri finalmente è ammesso vediamo se la riesco a prendere qui adesso non vorrei far crollare di nuovo tutto non ridere per favore, non ridere questi sono i problemi del lock out dicevo, ieri Matteo Malaventura finalmente davvero finalmente dopo 45 giorni è il grande Matteo ex Roseto 2005-2006 ha avuto il doppio tampone negativo ha vinto la sua battaglia contro il Covid questa è la foto che si sono fatti i guerrieri della famiglia Malaventura la moglie, i due figli e Matteo quindi gli dobbiamo un grande abbraccio il cuore gli dobbiamo un grande saluto e ovviamente Giorgio un tuo pensiero su Matteo beh Matteo sì gli vogliamo bene questa foto l'ho vista ieri pubblicata proprio sul profilo di Matteo Malaventura e ti dico mi ha emozionato Matteo è stato uno dei giocatori che Roseto ha amato nonostante i rosetani non amino la città di provenienza di Matteo Pesaro però Matteo insieme a Bicio Facenda sono stati forse i pesaresi gli unici due pesaresi amati e saranno per sempre amati a Roseto quindi sono felice di vederlo felice con le sue donne con la moglie e le due figlie figlio maschio figlia femmina figlio scusami con i due figli figlio maschio e figlia femmina e sono contento sono felice ci dà una grande speranza in questo giorno in cui in qualche modo l'Italia non voglio dire celebra perché dobbiamo stare attenti a celebrare però perché il dato di poco fa che ci sono ancora quasi 200 morti 24 25 più di ieri siamo tornati a 196 197 deceduti e non può essere una festa non possiamo essere felici di uscire fino a quando il numero dei morti è così elevato però vedere Matteo sorridente non ti nascondo che mi ha scalzato il cuore questo è il simbolo del lock out Luca vedi un pallone con messo in naftalina messo dentro a una bussa di plastica in qualche modo oggi lo guardavo e dicevo guarda questo pallone fondamentalmente è il simbolo del lockdown quando potremo togliere quando lo sport potrà togliere il cellophane dai palloni e si tornerà a giocare per quanto ci riguarda pallacanestro allora potremmo dire missione compiuta l'abbiamo passato un brutto quarto d'ora purtroppo anche più di un quarto d'ora ma in qualche modo andiamo avanti torneremo a camminare e allora per il piacere dei tanti questa puntata mentre prendo un po' più di confidenza con la regia non prendermi troppo in giro allora questo è il tabellone leggende grazie a Fabio Talamonti che sulla pagina Roseto Sharks ha indetto poi i sondaggi grazie a Stefano Valenti della Lega che ha avuto secondo me questa ottima idea perché in un momento di quarantena ha fatto votare ha vinto Remo Maggetti noi intanto vi mostriamo il tabellone vedete questo tabellone vi parleremo poi dei dei sedici campionissimi e di come sono stati ottavi quarti semifinali e finale e ha vinto Remo Maggetti intanto Giorgio che notizia è che abbia vinto Remo Maggetti in finale contro Mario Boni io la vedo come non proprio un riflusso no però come la voglia di Roseto di riscoprire le sue radici ci sono ovviamente i quarti di nobiltà perché Remo Maggetti è l'unico di scuola rosetana che ha vinto due scudetti e la Coppa Intercontinentale da protagonista non l'uomo di Madrid poi ha vinto Coppa Coppa e Coppa Italia a Napoli quindi è l'unico ad avere un Palmares così però è anche vero che ha vinto la B 56-57 se non ricordo male insieme a Testoni la Carte Giunco andando in A2 però è appunto un ricordo del 56-57 degli anni 60 ecco e allora com'è possibile che Remo Maggetti vinca? per me c'è questo bisogno forse del tifoso rosetano in un momento anche in cui ha avuto questi accordi che sono piaciuti il primo anno magari di più il secondo anno di meno di riappropriarsi delle sue radici in una scadenza visto che l'anno prossimo sarà un secolo di basket tu come leggi questa vittoria di Remo? beh sai Remo Maggetti per Roseto è talmente importante che gli è stato dedicato intitolato il palazzetto dello sport basterebbe già questa notizia di per sé a dare lo spessore di Remo Maggetti è rosetano è il rosetano che in assoluto ha vinto di più nella pallacanestro perché noi sappiamo che Roseto è una patria nella pallacanestro ma ha avuto pochi profeti no? Emilio Testoni tra l'altro sono coetani classe 37 Testoni ed era anche un classe 37 Remo Maggetti ma Remo Maggetti ha vinto due studetti e ce n'è stato un terzo rievocato vinto sul campo ma rievocato per un problema di tesseramenti anche all'epoca c'erano i problemi di tesseramenti della sua squadra Lignis Varese ha vinto Coppa Italia ha vinto la Coppa Intercontinentale da protagonista guadagnandosi il titolo della Gazzetta dello Sport ha vinto varie volte il titolo di capocannoniere ha realizzato 64 punti in una partita anche se era della seconda Serie A insomma e non c'era il tiro da tre punti Remo Maggetti perché è rimasto nella memoria collettiva non solo per le vittorie perché come tu hai detto giustamente questo bisogno di rispolverare e di andare indietro nel passato ma anche perché e tu te lo ricordi bene quando tornava a Roseto Remo non mancava mai 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 di andare a giocare tre contro tre all'Arena Quattropalme e il bello è che c'erano lui e il povero Giovanni Cavagnin e la gente che non li conosceva i turisti che non lo conoscevano che si presentavano all'Arena per fare il tre contro tre vedeva queste persone un po' attempate e dicevano vabbè dai giochiamo questi vecchiarelli questi vecchiarelli adesso ci rimettiamo in tasca e invece loro con una tecnica pazzesca continuavano a giocare una pallacanestro meravigliosa che facevano sembrare proprio questo sport lo sport più semplice del mondo e li battevano tutti quanti li mettevano proprio tutti quanti in fila il bisogno del passato Willis O'Journer ha vinto a Rieti Rod Griffin che è stato vice allenatore di Impaloni a Roseto ha vinto a Forlì Mario Del Vicario abbattuto magnifico a San Severo Del Vicario era un playmaker che realizzava molti punti però di un San Severo che giocava in serie B in serie C Ciccio Mannella ha vinto a Messina cioè personaggi storici no? e allora ti faccio vedere anche quest'altra quest'altra foto degli anni 60 Luigi Gigino Braccili che intervista Remo Maggetti il compianto Gigino il decano di tutti noi oltre 50 libri scrivendo di tutto dall'arte alla cucina ai giochi allo sport alla cultura che intervista un altro gigante come Remo Maggetti ecco andiamo subito a vedere Giorgio gli ottavi di finale partiamo proprio dal tabellone in alto Griffin contro Woodward e allora Adrian Griffin a 2 98 99 contro Dwayne Woodward serie 1 2004 2005 vince Woodward con il 54.5% un tuo ricordo dei due mentre io faccio vedere entrambi ho tantissime foto stasera devo fare più regista ma ovviamente ne sai più di me quindi è giusto che io recuperi il mal fatto per la partenza in ritardo e tu ci dica qualcosa più su Adrian Griffin visto che Woodward lo ritroveremo ai quarti beh Adrian Griffin nel primo anno di Roseto in Serie A1 della Cordivari Roseto in Serie A1 ha giocato in A2 scusami ha giocato purtroppo solo 8 partite con la maglia della Cordivari poi è andato per quella che è stata una luminosa carriera nella NBA che adesso continua come vice allenatore perché se non sbaglio è vice allenatore di Toronto nella NBA ha giocato con le franchiche di Dallas ha giocato con Boston ha giocato con Houston ha giocato con Chicago con Seattle insomma è un giocatore che nella NBA ha avuto una carriera importante è stato inserito nel tabernone degli ottavi di finale delle leggende eccolo inquadrato con la maglia numero 10 nonostante appena 8 partite giocate con il Roseto ha vinto Woodward perché? perché Woodward è un ricordo più fresco tra due giocatori che comunque non hanno giocato tantissime partite Woodward ha fatto una stagione intera ha giocato 28 partite con la maglia di Roseto è stato protagonista per quanto mi riguarda io mi ricordo due vittorie su tutte quella con il tiro a Fil di Sirena che fece impazzire Sky e noi che facevamo la telecronica invece per la nostra TV7 contro Reggio Emilia nell'anticipo di Mezzogiorno e poi per me riacchiappò per due volte al Paradozza di Bologna i supplementari contro la Fortitudo in quella Fortitudo giocavano Fior di Campioni e Roseto vinse dopo due supplementari al Paradozza di Bologna quindi per me è legato soprattutto a quei due ricordi ma mentre Griffin da Roseto si è lanciato verso la NBA Woodward ha inoi dopo Roseto ha avuto un'esperienza sia a Siena che ha altre esperienze ma non ha ripetuto secondo me la stagione che ha fatto a Roseto non so se sei d'accordo su questo eh sì lì abbiamo visto Adrian Griffin che sfuggiva al vecchio Palasalara un giovanissimo Emanuele Ginobili in Roseto Reggio Calabria qui vediamo invece due Woodward uno dei tre insieme a Boni e Milic a guadagnarsi la copertina di Super Basket e quindi come hai detto i motivi mi vedono concordo secondo ottavo di finale Boni Weaver Boni a due a uno dal 2000 al 2002 Weaver a due 2015-2016 ex NBA vince Boni nettamente ma direi che insomma è anche normale visti i trascorsi di Mario con il 71% ma intanto poi vedremo anche le foto di Mario vediamo anche una foto del buon Kyle Weaver io qui ripeto ne ho troppe non ce la faccio a mandarle tutte però me l'ero preparata con cura perché le 16 leggende del basket rosetano meritano assolutamente qui vediamo Kyle Weaver sfuggire proprio in un roseto treviso io dicevo che giocava in infradito Giorgio con le sue movenze felpate da gattone però dava sempre l'impressione di giocare come dire non spingendo sull'acceleratore ma per per gli avversari era letale però ovviamente contro Super Mario non c'è stata storia no? beh sai Weaver comunque veniva da da stagioni NBA con Oklahoma se non sbaglio con Utah anche no? quindi in Italia quando è venuto come dici tu sì sicuramente aveva un talento offensivo tale che poteva permettersi di giocare in infradito Mario Boni il talento ce l'aveva nella testa nella voglia nella cattiveria nella rabbia nel furore agonistico io ho sempre detto una cosa di Mario Boni se io dovessi scegliere una squadra con cui andare a fare tra virgolette la guerra la guerra quella sportiva Boni è il primo che prendo perché Boni aveva un furore agonistico e lo sappiamo lui una volta calciò il pallone in tribuna durante un allenamento perché per un passaggio sbagliato di un compagno di squadra aveva perso la partitella di allenamento non voleva perdere aveva il sangue agli occhi o una partita amichevole del torneo Lido delle Rose espulso dopo due o tre minuti di partita con un giocatore turco che uscì con il naso grondante di sangue per un colpo io in telecronaca dissi sentiremo dopo la partita Boni sicuramente è stata una comitata involontaria perché la partita è cominciata da due minuti intervistato dopo la partita Mario disse no no quale volontario ho dato apposta volevo proprio farmi male a quello stronzo lì con l'azione precedente mi aveva dato una comitata e non mi ha preso io l'ho preso questo era Mario Boni poi si può dissentire è il 90% delle persone che conosciamo chi non l'ha amato ha dissentito spesso sulla vita e sulla carriera di Mario Boni noi l'abbiamo amato è l'unico giocatore italiano che ha vinto il titolo di capocannonieri in tutte le categorie in cui ha giocato ed è l'unico giocatore italiano che ha superato 20.000 punti nei campionati gestiti dalla FIP che dobbiamo dire di Mario Boni scusami intervistato da me per il centro Ettore Messina intervistato a Madrid alle navi Real Madrid disse chiedo scusa a Mario Boni per averlo convocato una volta soltanto per non averlo portato a quei campionati europei terzo ottavo di finale perché se parlo anch'io poi parliamo troppo ma siccome sei super esaustivo tu basti tu Emilio Testoni tanti anni ma insomma l'abbivinta ricordavo 56-57 con la carta giunco la promozione in A2 che allora si chiamava divisione nazionale A qui lo vediamo in un torneo delle rose di fine anni 50 saltare contro De Carli che poi è diventato un famoso concertista internazionale di piano che è stato un oriundo quando le regole potevano permetterlo a giocare sia con la maglia del Brasile sia con quella dell'Italia qui il giovanissimo Emilio Testoni per molti l'inventore del tiro in sospensione e vediamo Emilio ovviamente so che ci segue è una persona carissima però ha perso contro un altro che ha fatto innamorare i rosetani cioè Claudio Bomba Bonaccorsi che ha vinto col 72% Claudio che è stato a Roseto sia in Serie B 97-98 l'anno del double e poi è tornato in Serie A nel 2003-2004 quando Martinelli lo ha richiamato chiamando anche Donato Avenia per fare un po' da chioccia qui facciamo anche vedere una foto che poi ne abbiamo altre del Claudio quello Ricky Martin quello che fece innamorare nel 97-98 ben lo sai perché lo presentasti ecco questa nella foto di Silvio Bruni c'è il Claudio con la curva che in realtà non era curva era tribuna perché c'erano così pochi posti e allora anche qui affermazione netta per Claudio anche se un pensiero per Emilio Testoni è giusto che tu lo spenda perché Emilio è una persona assolutamente assolutamente intanto lasciami fammi fare anche il lavoro di salutare lasciami salutare Stefano Ammabiglia che ci segue dalla provincia di Padova è un ottimo fotografo una grande persona di basket che ho avuto modo di conoscere sui campi della femminile e lasciami essere d'accordo anche con l'osservazione di Daniele Francani che abbraccio dicendo nobile tabellone ma secondo me un posticino per Bob Ock e Bob Ock è stato Roberto Quercia perché Roberto Quercia era veramente l'americano di Roseto in quegli anni parlo degli anni anche concordo con Daniele ma sai siamo siamo d'accordo su un fatto che dovendone scegliere 16 il povero Fabio ha avuto una 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 importante responsabilità è ovvio tutti non li potevi mettere però comunque io dico nei limiti di questi 16 noi di questi oggi parliamo ha vinto Maggetti però è ovvio che Quercia e tanti altri che hanno fatto anche la storia no anche gente molto preparata lo stesso Rannico tanti anni in Eurolega fra i play ci poteva stare però ripeto è proprio un problema di diciamo di spazio qui invece è uno schiacciatone di Norm The Storm Nolan che ha vinto col 64% il quarto ottavo di finale contro Rosco Pondexer Norman Nolan serie A 2003-2004 Giorgio te lo ricordi bene sì ero fermo a Testone e Buonaccorsi quindi io ho una parola su Emilio voglio dirle su Claudio ovviamente Emilio Testoni hai detto tu meglio di me alla Virtus Bologna se lo ricordano e se tu vai sul sito della Virtus Bologna in Virtuspedia se non sbaglio c'è una sezione di memorabilia Virtus Bologna Emilio disse quando arrivai a giocare a Bologna girando per le vie di questa bellissima città vedi che ero vicino abitavo vicino a via Testoni e mi sentii subito a casa lui si sentì a casa e i bolognesi gli hanno voluto bene Emilio Testoni era l'interprete come hai detto tu del palleggio restettiro aveva quella sospensione tirando su le ginocchia veramente restava fermo in aria era un giocatore bellissimo da vedersi e secondo me è stata anche una testa e avrebbe potuto fare l'allenatore se avesse avuto un po' più di fortuna e un po' più di pazienza da parte di chi lo sceglieva lo ha scelto le rare volte che è stato scelto buon accorsi di buon accorsi gli assist le triple segnate da metacampo la tripla contro Ferrara la pazzia di rifiutare i cambi ogni volta noi ci arrabbiavamo con lui perché gli volevamo bene o la follia di strapparsi quasi la maglia di dosso il ritorno in Serie A le 500 partite giocate proprio a Roseto nelle 500 partite in Serie A e celebrate proprio a Roseto quindi di Claudio che cosa dobbiamo dire probabilmente nell'era moderna insieme a buoni giocatori più amati di Claudio ne riparleremo invece eccoci qua questo è Rosco Pondexter Serie A2 purtroppo sfortunata 82-83 contro Chuck Jura nella foto in fondo si vede Sandro Maggiotto ma solo per dire poi qui la vince Nolan col 64% ovviamente Giorgio a te la parola un pensiero su Norm De Storm e un pensiero su Rosco Bone Crusher spacca ossa purtroppo per quel che è successo dopo nella prigione di Fresno dove lui era il capo dei secondini che poi ha anche un figlio Quincy che è nell'ambito gioca in NBA sì Pondexter è stato forse uno dei primi giocatori di talento che ha avuto modo di vedere giocare dal vivo perché venivo al Palasalara a vedere quel rosetto di Serie A era un giocatore devastante che aveva un tiro pur non avendo un'enorme un'immensa elevazione però aveva quel tiro che era praticamente immarcabile luce ed ombre sia in campo perché lo sappiamo abbiamo parlato spesso io e te anche con Domenico Sorgentone nella prefazione del libro nell'anno della retrocessione quell'anno della retrocessione nello spareggio contro Amal Gebevi Ferrara ci fu qualche ombra però lasciamo che le ombre siano ombre e ombre anche dal punto di vista della vita post basket Norman Nolan a noi con Norman ci lega un'annata non meravigliosa sul campo ma meravigliosa perché primo derby di Serie A1 vinto contro Teramo quell'anno finirono 2 a 0 i derby perché all'ultima giornata di ritorno con cena finale poi all'Hercules Roseto bisola la vittoria dell'andata andò a vincere a Teramo salvandosi matematicamente ma era già salvo con qualche giornata di anticipo e la vittoria a Pesaro di un punto Nolan grande protagonista e i passi di Scarone io e Martinelli commentammo quella partita ci tirarono di tutto dopo la partita perché eravamo proprio con la postazione sotto la curva di Pesaro però vincere a Pesaro di uno battere 2 a 0 Teramo per un Rosetano penso che metta di diritto Norman Nolan tra i giocatori più amati lasciami dire sul Norman Nolan che lui non ci credeva come dici tu a fine stagione gli dissi voi siete assolutamente una delle squadre più amate perché non avete fatto i playoff ma avete vinto andate e ritorno a terra ma avete vinto a Pesaro queste cose il Rosetano non le dimentica e lui poi si convinse dalle tante attestazioni di stima e poi infine diciamo Norman Nolan plurianellato NBA in quanto a Ribolla Gialla Cabernet Spignone Amarone Montepulciano Arrosticini Sogliole La Mugnaia il miglior cliente dell'Hercules disse Alfonso Borghese perché di tutto vuole due porzioni e quindi penso che non ci sia bisogno di dire altro andiamo alla quinto ottavo di finale Paolo Moretti a 2,99 e 2,000 e poi purtroppo la malattia altrimenti sarebbe stata anche la 1 meritata anche grazie a lui 2,000 e 2,000 uno è Adam Terrell Smith a 2 2016-2017 vince Adam Smith 59% questo è il lay up plastico di Paolo Moretti in maglia Cordivari nel torneo Lido delle Rose l'amichevole Kinder contro la Kinder Bologna proprio nell'anno in cui poi si è vinta la 2 e qui se vuoi un po' a sorpresa vince Adam Smith le tue considerazioni su questi altri due campioni leggendari della storia del basket mentre cerco la foto di Adam Smith sì ti dico che io qui mi sono sorpreso e non in positivo certo Adam Smith non il il filosofo ed economista scozzese omonimo che si chiama appunto Adam Smith a Roseto in 29 gare ha segnato più di 700 punti viaggiava a 26 punti partita con il 41% da 3 uno che si prendeva 6-7 tiri da 3 punti a partita quindi per carità ha lasciato un segno importante però Paolo Moretti è stato secondo me insieme a Rauf il giocatore con più quarti di nobiltà arrivato a Roseto in un momento in cui la carriera la sua carriera era ancora poteva ancora essere all'apice è uno che veniva con tre scudetti vinti con la Coppa Corace vinta con Verona con le Coppe Italia vinta una con Verona se non sbaglio una con Bologna insomma veniva un giocatore importante veniva un giocatore veramente importante lo ha dimostrato quanto è stato importante sia nell'annata vinta di A2 perché l'abbiamo detto in un'altra tremissione non ci soffermiamo più di tanto ma la telefonata di Melillo dallo spogliatore di Sassari a Paolo Moretti la dice lunga sull'importanza che Paolo ebbe in quella stagione per lui benedetta e maledetta benedetta perché riportò il Roseto in A1 ma maledetta perché gli costò un crociato a uno che si era rotto in carriera anche il tendine d'Achille e ne aveva già passate tante ma non aveva passato il peggio che purtroppo lo costrinse a lasciare il basket con Roseto dopo aver giocato una sola partita via A1 con la maglia di Roseto insieme a Mario Boni a Pescara fu una partita di Coppa e se non sbaglio segnarono 60 punti in due credo poi fra l'altro contro Iesi vinta con una tripla da metà campo di Gilmore insomma fu mi ricordo che si giocò a Pescara sì e credo che fosse contro Iesi e fu una sola partita a vedere i due talenti insieme hai ragione si disputava la Coppa Italia con una sorta di precampionato secondo me una formula molto intelligente che andrebbe anche riproposta fra 2 a 1 all'epoca avrei votato tutta la vita a Paolo Moretti tutta la vita e allora terzo ultimo ottavo di finale Amoroso Milic vince di un'incollatura mutuo l'espressione hippica Valerio Amoroso col 51% Amoroso dal non tesserato bambino 97-98 per cominciare a far gruppo fino alla A1 e poi ancora tornato 2016-2017 in A2 invece Marco Milic il rosetto europeo 2002-2003 questo è Valerio Amoroso bambino letteralmente bambino fotografato nel 98-99 nel primo anno di A2 dopo la B quando fu tesserato qui ha vinto di un'incollatura Valerio magari aveva più standing internazionale Milic Carlo e Giorgio però l'affetto dei rosetani per Valerione gli ha consentito il colpo di reni finale ma ragazzi Valerio Amoroso Antonello Ruggero Maresca Bagnoli cioè quella squadra lì tutti questi ragazzi qui sono figli di Roseto noi andammo a fare un'intervista se non sbaglio venissi tu con me Luca loro abitavano nella galleria di Italcolo Valentini eh galleria Valentini ti ricordi erano timidissimi quasi non riuscivano a parlare davanti una telecamera cioè li abbiamo tenuti a battesima ma lo dico con orgoglio di di veramente con affetto io a Valerio Amoroso gli vorrò bene tutta la vita a Antonello Ruggero a Giuliano Maresca a Bagnoli che mi ha rivisto qualche anno fa anzi ci ha rivisto qualche anno fa eravamo in una delle tue rare uscite da Roseto a Rimini durante la finale di Coppa Italia lui vinse la Coppa Italia di C se non sbaglio quell'anno la Coppa Italia di C con Scauri se non sbaglio forse con Scauri esatto esatto e ci abbracciò non ci si dimentica mai io non vedo Valerio credo da dieci anni ma so benissimo che dovunque vedo Valerio noi ci abbracciamo non servono parole non serve rivedersi non serve chiamarsi per me Valerio Amoroso è un pezzo di cuore e non lo dico da ultra ma lo dico da giornalista anziano che ha visto crescere diventare un giocatore e che giocatore Valerio Amoroso quindi si ha vinto Valerio Amoroso Milic era un grande Milic a Roseto è stata dopo Phoenix perché lui andò anche nella NBA è stata forse la più bella stagione di Marco Milic perché a Real Madrid prima prima parte non andò benissimo alla fortitudo non andò benissimo venne a Roseto e fece un gran campionato Milic fino a quando le cose andarono bene poi con l'annata finì in maniera complicata diciamo così però Marco Milic fece innamorare le folle magari tecnicamente per quarti di nobiltà Milic ma per affetto tutta la vita Valerio Amoroso e qui c'è la seconda copertina abbiamo iniziato con Woodward anche se è la prima di Boni ma ci torneremo euro sorpresa di quando ovviamente Marco Milic come dici tu con l'euro firmò questa partenza eccezionale ricordiamo che quell'euro roseto ottavi di finale di Uleb Cup è a un tiro solo a un tiro dalla finale di Coppa Italia perché insomma poteva andare diversamente su Stoneruk si poteva andare addirittura in finale quindi di un'incollatura amoroso penultimo come vedi mi sto mi sto dannando con la regia perché devo recuperare ti sto facendo venire mal di testa ma farti scherzi va fatto perché proviamo anche a movimentare per i nostri amici oggi è pieno di lacrime di gioia perché stiamo guardando veramente tante cose a livello storico dicevo penultimo match Rauf Busca Rauf il roseto più forte di sempre come diciamo spesso 2004-2005 Busca il play delle due promozioni 97-98 99-2000 il play della salvezza sul campo 2005-2006 quindi anche qui due super califfi ma ha vinto il califfo delle Lido delle Rose nettamente devo dire con l'82% e anche qui c'è voglio dire di qualcosa tu mentre faccio vedere un Rauf a Verona chiedo scusa a Bologna in contropiede visto che abbiamo parlato di Griffin parliamo anche di Mutombo come vedi Paladozza inseguito da Patrick Mutombo Roseto Ronto passami il neologismo e c'è due assistenti di Coach Nars campioni in carica NBA sono ex giocatori di Roseto e questo era Rauf intanto che trovo Busca ovviamente a te la parola per il califfo e per l'uomo che correva a cento all'ora beh io non avrei saputo scegliere qui perché da un lato il cuore è così per Valerio lo stesso è per Leo Busca Leo Busca ci ha portato dalla B1 alla 2 promozione dalla B2 alla 1 ed è tornato nell'ultimo Roseto di Serie A1 e tra le altre cose non credo che di questa cosa qui vada da fiero ogni volta che tornava da ex faceva a Roseto delle partite schifose perché proprio non riusciva a giocare contro la maglia di Roseto mi ricordo l'accoglienza che gli fecero la prima volta che tornò da avversario che gli fece la curva lui giocava con Udine a lui a Chietti e gli dedono la targa esatto gli dedono la targa e lui fece una pippa tutta la partita non riusciva a giocare contro gli sembrava quasi un delitto di lesa maestà e Rauf che dobbiamo dire di Rauf Rauf purtroppo lo abbiamo coccolato soltanto per 21 partite ma ha giocato stiamo parlando di uno che ha giocato quasi 600 partite in NBA e ha segnato quasi 9000 punti in NBA e lo dico ai più giovani l'ho detto anche in altre trasmissioni probabilmente ma concedete a un vecchietto di ripetersi andate su YouTube e cliccate Mahmood Abdul Rauf e guardate quando ha fatto 4-5 volte nella NBA credo 4 si è andato oltre 50 punti segnati una volta contro Chicago c'era Michael Jordan si vede un time out in cui Jordan dopo 7-8 triple di Rauf dice a Phil Jackson coach lo prendo io prima azione dopo il time out doppio palleggio tra le gambe di Rauf alla velocità della luce e anche di più come il Concorde lui viaggiava a velocità supersonica nel ball ending palleggio tra le gambe rapidissimo disorienta Michael Jordan non Pizzefiki tripla ancora fece 52 punti quella partita Abdul Rauf credo che sia il giocatore più bello che io abbia mai visto di giocare dal vero e io sono andato un anno e tu hai perso il biglietto quell'anno perché non riuscivi a uscire da Roseto sembri un po' come la leggenda del pianista sull'oceano il film di Tornatore non riesce a scendere dalla nave noi andammo io e Marco Rapone andammo a Milano al McDonald's Open a vedere i russi contro la squadra di Robinson gli Spurs dove c'era il Marines Robinson c'era Tim Duncan e altri beh io ho visto la NBA della squadra in quel momento che aveva vinto l'Anello io come Rauf non l'ho mai visto io come Mahmoud Abdu Rauf di giocare con i miei occhi quindi ero presente lì e addirittura ho la sua maglia autografata qui a casa come un'icona come una reliquia io non ho mai visto nessuno giocare così mai Andrea Tosi della Gazzetta dello Sport a Bologna contro piede di Rauf Bagaric 2 metri e 20 si prende il tempo per la stoppata Rauf con la finta che faceva sempre lui facendosi fa saltare Bagaric e appoggia al vetro lui non schiacciava non faceva niente lui ti mandava a pascolare con lo sguardo e allora ultimo ottavo di finale Remo Maggetti per per comodità serie B vinta 5 a 6 5 a 7 insieme a Testoni con Coach Bruscia con il presidente Giunco da Carte Giunco eccolo qui forse non gli ha reso giustizia la foto che hanno messo perché era nel tabellone leggende sul sito LNP perché era presa in una partita esibizione del 98 quando Remo aveva smesso da tempo questo è il Remo Maggetti tonico guizzante in maglia Carte Giunco fine anni 50 contro Enzo come lo chiamava il compianto Nicola Mariani Anzu Sisei quindi cominciamo da Remo Maggetti intanto te l'ho fatto vedere Giorgio e un tuo pensiero su Remo più breve perché tanto lo ritroveremo fino alla finale vinta e su Anzu Sisei sì di Remo abbiamo detto tutto parla il Palmares per Remo Maggetti Palmares fatto di Scudetti di Coppa Intercontinentale da MVP della partita e da titolo sulla Gazzetta dello Sport se aggiungi a questo che era anche Rosetano nato a Roseto degli Abruzzi nessuno mai più di lui a Roseto non c'è stato nessuno chiuderemo Maggetti io ricordo il giorno in cui la sera in cui sono stato peggio vestito in tutta la mia vita però presentarlo all'Arena Quattropalme durante una presentazione di Roseto Basket avevo un vestito cachi estivo che quando mi riguardo ancora oggi provo vergogna per me e per Remo che quella sera mi ha dovuto anche dare la mano però detto questo ha vinto con Sisei Sisei insieme a Rauf arrivò quell'anno qui il premio va dato questo è Ansu Sisei anche lui a Bologna Giorgio giocatore strepitoso anche lui dovrà ringraziare Roseto per essersi costruito dopo Roseto una carriera importante in Europa in Italia andando prima a Napoli vincendo la Coppa Italia e poi andando a giocare all'Olimpia Milano e poi andando a giocare da protagonista anche in Germania all'Alba Berlino per uno che nella NBA c'era passato di striscio Roseto è stato un trampolino di lancio fondamentale però qui un applauso Luca è fuori tabellone non ha giocato con il Roseto non si è mai tesserato ma ha tesserato il fratello che vi sia simpatico antipatico amici rosetani e vi voglio un bene dell'anima ma a Michele Martinelli che porta a Roseto nel mercato tra virgolette di riparazione Abdurraouf e Ansu Sisei ma scusatemi ma chi chi altri in quale squadra con il budget che aveva Roseto quale squadra poteva permettersi a dicembre di prendere Mahmood Abdurraouf e Ansu Sisei eh sì e siamo in questa bella chiacchierata 35 minuti abbiamo avuto un buon ritmo siamo ai quarti di finale primo quarto è qui se gli ottavi erano 16 campioni i quarti sono ancora più la creme della creme Woodward contro Boni Dwayne Woodward contro Mario Boni vince Boni nettamente il 78% ma e qui parla solo di Dwayne così andiamo avanti con più calma ti offro una foto non si ovviamente non c'è la definizione ma chi vuole la può vedere su Facebook in alta risoluzione sulle mie pagine la gente dietro con le mani nei capelli questa è la partita che Brown Woodward e tu che ovviamente urli da tre poi era da due ma non importa suicidio di Reggio Emilia Dwayne Woodward che la mette ma e qui siccome poi tu sei andato a Bologna non è stata l'unica partita ti voglio coinvolgere su questa riflessione lui era sull'orlo del taglio arriva Rauf che gli toglie pressione lui diventa un altro giocatore e firma alcune imprese che tu hai ovviamente cantato quindi ovviamente a te la parola su Dwayne Liquirizzi è vero è vero questa partita io mi ricordo che dopo siccome si giocava a mezzogiorno dopo andammo a pranzo da spizzico e c'era con noi Gianluca Duri che era il procuratore di Gigli che sbagliò quella rimessa Gigli che si voleva dichiarare per il draft della NBA poi non venne scelto lo fece ma non venne scelto Brown sbagliò la schiacciata da sotto e Woodward sulla palla che rimbalzò dal ferro a Fiddi Sirena mise quello che per noi era da tre io come non sono morto quella partita e altre due tre non lo so e l'impresa di Bologna di fare il primo tiro libero e sbagliare il secondo perché eravamo sotto di tre e ci riesce nei tempi regolamentari lo rifà nel primo tempo supplementare c'è uno che fa due volte una magata simile nonostante la prima volta magari prendi di sorpresa agli avversari la seconda ti aspettano e tu lo rifai è vero aveva un carattere ombroso no Woodward da un lato è innegabile che gli fece bene l'arrivo di Abdurraouf dall'altro lui non l'ammetteva giocava incazzato con il resto del mondo era sempre arrabbiato mi ricordo anche a Bologna dopo che fece quella tripla meravigliosa che io e Lorenzo Settepanella andammo in brodo di giugio in brodo di giugiole mi ricordo che lui quasi si strappò la maglia durante il time out dicendo no fuck come dire io sono il migliore potessi che non ve ne accorgiate noi ce ne siamo accorti che lui era uno dei più forti però lui aveva bisogno di questa di scatenare questa rabbia che covava dentro e cambiò la stagione e questo invece in una immagine perché ha vinto col 78% Mario Boni qui è il truce diciamo sobillatore il truce conquistatore di Roma 2000-2001 faccia trasfigurata grinta a fiotti Martinelli con la camicia fuori dai pantaloni alle sue spalle in questa faccia trasfigurata c'è ovviamente tutto Mario Boni la volevo far vedere perché sono tante foto alcune le sto saltando ma quelle belle belle qui sono tutti capolavori questo è un capolavoro di Ciamillo Castori e poi grazie a Elio Ad Ascenso grazie a Mimmo e Andrea Cusano di Cusano Foto grazie a tutti loro secondo quarto di finale buon accorsi Nolan grandi amici ti ricordi che giorno era quella partita di Roma in cui Roseto sbancò Roma con 900 rosetani al palatiziano 900 era il 30 dicembre era prossimo al capodanno via del corso prima della partita via del corso sembrava il lungomare di Roseto erano tutti rosetani tutti e allora il secondo quarto di finale dicevo buon accorsi Nolan due grandi amici però vince buon accorsi del 65% qui faccio rivedere partendo dallo sconfitto un'altra schiacciata perché poi se lo chiamavamo The Storm c'era un motivo Norman Nolan giocatore e qui magari una pillola tua Giorgio che forse si bastava un po' troppo cioè una volta gli sentì persino dire sì mi vuole quella squadra non faccio nomi Nevespa chiede a dirmi se avesse più voglia lui avrebbe potuto anche Eurolega sicuro e perché no forse anche una chance in NBA non lo sappiamo perché magari era un po' più piccolino però dice sicuramente un giocatore d'Eurolega però forse si è bastato un po' troppo chiedo a Giorgio sicuramente si è bastato un po' troppo aveva talmente tanto talento che gli faceva trascurare tutto il resto e oltre alla voglia lui era un tipo che se si lasciava andare ovviamente non è che stava nel peso per usare un termine pugilistico facilmente quando lo prese Luca Dalmonte che se ci sta ascoltando abbraccio sempre idealmente diciamo che arrivò qualche chilo sopra al suo peso forma credo che gli fece un'intervista a Settepanella non so se fosse 150 kg e disse non preoccuparti in un paio di mesi ne butto 30-35 e in effetti quando lo vedemmo con meno 30 kg in due mesi ti faceva veramente capire cosa volesse dire quella montagna umana però aveva aveva le mani di una guardia era educatissimo tirava benissimo da tre punti aveva un uso del piede perno era potente fisicamente cioè d'accordissimo con Neven Stachia che era uno che non te la mandava a dire perché si ha fatto un complimento a Nolan non faremo mai il nome di chi l'ha detto ma di tanti ha detto quando eravamo all'Hercules lui buono per fare pizze qui da Alfonso che te lo ricordi me lo ricordo e aggiungo una bellissima frase quando disse di un giocatore ovviamente non faremo i nomi neanche sotto tortura maybe next season he can play for this mayonnaise e tirò il contenitore di mayonnaise quindi non dico altro qui invece c'è Claudio tornato proprio in quel roseto 2003-2004 contro Gianluca Lulli un abbraccio a entrambi nel derbissimo dia uno e lui anche se era in B2 San Giovanni Valdarno Galli San Giovanni Valdarno insomma faceva 60 punti in B2 Martinelli lo richiama lui Avenia Chiocce e però Chiocce è un cavolo perché dopo dietro Robert Fools quando tagliarono Billy Keys il secondo player ridiventò lui Giorgio Eh sì qualche triple importante la mise e l'esultanza era la stessa genuina che metteva dopo ogni tripla segnata nella stagione della B2 eccellenza facciamo una piccola anticipazione parlando di Claudio che gli vuoi lo odi che sei compagno tra virgolette sportivamente sempre quando ti è compagno di squadra ma poi lo ami perché è una persona genuina abbiamo ricevuto la settimana scorsa una telefonata di Giovanni Coppo dicendo che io dopo Roseto addirittura quasi non mi parlavo con Claudio in maniera fredda poi ci siamo incontrati a San Marino lui giocava a San Marino io con un'altra squadra dopo esserci salutati freddamente ci siamo guardati ci siamo messi a ridere e ci siamo abbracciati perché in quella squadra famosa della vita eccellenza erano sette contro due Rizzo e Bonaccorsi tutti gli altri ce l'avevano con loro due ma questo per dire si può vincere non essendo amici Hewitt e Mick Millen che per chi è vecchio come me sono stati i più grandi giocatori di doppio nel tennis Bobby Hewitt e Friu McMillen si spogliavano giocavano in doppio insieme in due spogliatori diversi perché si odiavano ma hanno vinto tutti i tornei del grande slam tutti ma non si vengono e d'altronde se Mario Boni dice con le squadre di bravi i bravi ragazzi ci si fa sposare le figliole qualcosa vorrà dire esatto e allora siamo al terzo quarto di finale anche qui scontro Fratricida visto che hanno giocato insieme nella 2 2016-2017 Adam Terrell-Smith contro Valerio Amoroso stavolta un po' a sorpresa Smith 70% partiamo dallo sconfitto quindi un ultimo pensiero di Amoroso perché è una bellissima foto tratta da Basket Inside di quando Roseto espugnò gara 1 contro la Virtus non nei quarti dei playoff poi la Virtus di Ramagli dopo quella non perse più 3-1 contro Roseto 3-0 Ravenna 3-0 Trieste andò in a 1 però ecco questa foto di Valerio valeva la pena ricordarla perché solo tre anni fa Roseto godeva cestisticamente ad un certo livello allora Valerio contro Smith vince Adam un po' a sorpresa secondo te? sì anche qui sai io Adam Smith per carità ripeto chapeau per quello che ha fatto Roseto più di 700 punti segnati in 30 partite scarsa se non sbaglio 29 ne ha giocato Roseto talento offensivo spaziale però non puoi dimenticare quello che è che è stato per Roseto Valerio Amoroso io ripeto ancora tu prova a pensare a ricordarti Luca il quintetto di quella squadra Juniors che raggiunse le finali nazionali Juniors e qui la bacchettata Martinelli che mandò la squadra in pullman per risparmiare a fare le finali a Reggio Calabria quel quintetto aveva Ruggero Maresca Amoroso Bagnoli Toppo tutta gente che ha giocato in Serie A questo è il quintetto Juniors del Roseto Basket allenata dal nostro amico Merlo Andrea Merletti da Andrea Merletti da Andrea Merletti ci raccontò che aveva preso poi ci facevamo anche un articolo credo entrambi che aveva preso i complimenti da Boscia Tagnevic quel Roseto per come giocava alle finali nazionali e qui guardiamo invece Adam Smith contro Legnano c'è Mosley e c'è Raivio se non sbaglio e qui questi sono i playoff mortifero ovviamente Adam Smith con la sua classe indiscussa e allora l'ultimo quarto di finale Rauff contro Maggetti e qui secondo me c'è stata subito la prima sorpresa Rauff che veniva da un Tony Truant 82% e invece vince Maggetti con il 54% di anche qui di un'incollatura se vuoi ma questa secondo me che l'ho vista quando votavo vedevo il tabellone che aggiornava Fabio Italamonti secondo me questa è stata la vera sorpresa la più grande sorpresa perché non credevo che Maggetti ripeto da troppi anni lontano anche nell'immaginario collettivo vincesse questa è intanto la foto di un derby di Abdul Raouf contro il Teramo e te la faccio vedere Tyson Wheeler se non sbaglio dall'altra parte e vince però ripeto Maggetti allora un ultimo pensiero del califo visto che Maggetti lo ritroveremo fino alla fine sì sai io non ho soprattutto non ho la bronzatura di Carlo Conti che presenta tutto dallo Zecchino d'Oro a Sanremo a tale quale show ai migliori anni della nostra vita e quando si fanno questi concorsi la più bella canzone degli ultimi 50 anni cambiano i gusti cambiano e in questo caso nella Pallacanesto cambia anche il modo di giocare come fai a dire per la mia generazione e non è una generazione giovane per me la finale sarebbe stata Rauf contro Boni Mario Boni mi toglierà il saluto ma avrebbe vinto 50,1 a 49,49 per cento Abdu Rauf ma questo è il tabellone di Giorgio per il tabellone di persone che hanno un'età diversa dalla mia ha vinto giustamente Remo Maggetti per qualcuno magari non lo so avrebbe vinto Adam Smith perché è un ragazzo di 15 anni 16 anni e si è innamorato dei canesi di Adam Smith quindi sì io non avrei saputo votare Rauf Busca non saprei votare Rauf Maggetti ma perché? perché io sono assolutamente parziale con il cuore quindi per me quello che è stato a Roseto per esempio Leonardo Busca l'ho già detto nella puntata precedente che è stata quasi monografica su Leo e quello che è stato però Rauf dal punto di vista dell'estetica della pallacanestro i miei andecasilla bisciolti che mi dicono anche che hanno utilizzato per una sigla dei ragazzi no? Sì dei ragazzi per il podcast dintorni di Febbo Braccini che saluto e che abbraccio Lois Testa il poker di ragazzi molto attenti appassionati e bravi hanno usato andecasilla bisciolti ma insomma dopo 15 anni quella telecronaca fa ancora venire i brividi mentre ti mostro negli anni 60 in un Roseto Reier Venezia Remo Maggetti ancora in azione perché per fortuna grazie all'archivio di Italcolor vedi che qui sotto c'è anche lo strappo della foto sulle gambe dell'avversario che è una foto scannerizzata si giocava sul cemento si giocava con le Converse All Star che adesso hanno quasi le molle sembrano le scarpe di Paperinic quelle di oggi una volta si giocava con la scarpa che era praticamente al livello del suolo e il suolo non era il parquet elastico che ti restituiva la spinta al momento del salto no era il cemento quando non l'asfalto comunque materiali molto duri e rigidi quindi per carità pioniere della pallacanestro io ho vissuto la pallacanestro degli anni 90 2000 raccontandola e per me il più grande giocatore che io ho visto a giocare negli anni in cui ho avuto il piacere di commentarlo è stato Mahmoud Abdu'Rawuf ripeto per lo 0,00001% su Mario Boni e qui siamo alle semifinali siamo a 48 minuti direi che ci siamo due grandi scontri ovviamente Boni Bonaccorsi Smith Maggetti Boni Bonaccorsi vince Boni con il 72% allora noi riproponiamo in seguito da Vujanic nel suo rientro già festeggiò a Roseto le 500 partite in Serie A dopo tanta B Roseto che per prima lo chiamò in B lo richiamò in A questo è Claudio Bonaccorsi che sfugge a Vujanic giocando a Roseto Roseto Fortitudo Bologna io dico che Claudio ha un merito per me è stato quello che mi ha fatto aprire Roseto.com perché io da tifoso scrivevo all'epoca di equitazione vedendo lui che come diceva mi mi fa sciocco lanciava pezzi di cervello sotto forma di assist mi innamorai di quel Roseto e aprì il sito se tutto questo c'è 22 anni fa io lo devo alle emozioni che mi trasmetteva Claudio Bonaccorsi l'ho sempre detto e lo ribadisco il tuo saluto visto che ci stiamo andando verso la finale a uno dei grandissimi tanto che è arrivato in semifinale Claudio Bonaccorsi Claudio Bonaccorsi l'abbiamo visto io l'ho rivisto l'estate scorsa abbiamo pranzato insieme a lui ovviamente da Giuliano Spizzico insieme a Boni insieme a Super Mario anche e poi la sera ci siamo visti anche sul campo della Roseto Cup a Lido Azzurra e io ho fatto addormentare tra le mie braccia il figlio che cosa devo dire di Claudio l'ho amato visceralmente anche lì il talento di Claudio Bonaccorsi prima hai detto di Nolan e guarda caso erano anche molto amici il talento che aveva Nolan se avesse avuto la testa e la voglia il talento che aveva Bonaccorsi se avesse avuto un'altra testa un po' meno livornese forse non lo so se la fantasia secondo me avrebbe avuto la stessa fantasia ma avrebbe avuto una carriera di gran lunga più meritoria di quella che già comunque meritoria è stata io voglio dire gli scudetti avrebbe vinto sì io voglio appunto dire una frase che proprio Boni anni fa quindi prima di questo spareggio mi disse di lui dice guarda noi abbiamo giocato solo un anno insieme se non sbaglio a Montecatini del tipo vado a memoria forti Bonaccorsi Boni Battistella Swinson e mi disse nessuno vada bene nessuno americani compresi e lui è giocato con Shackleford all'Arist poca gente quasi nessuno ha il talento puro del bomba quindi il più bel complimento gliel'ha fatto questo qui che ti faccio vedere foto autografata me l'ha data spizzico perché è un altro volto trasfigurato con Melillo che prova a calmarlo qui ha completamente perso la ragione la grinta debordante come uno tsunami di Mario Boni fu proprio lui a fargli un grande grande complimento e allora Boni tu come fai a non andare in guerra con uno che ha gli occhi che è Mario Boni tutta la vita Boni primo finalista col 72% l'altra semifinale Smith Maggetti vince ancora Remo Maggetti sempre no 54 stavolta 58 e allora si ferma la corsa di Adam Smith come dici tu una sola stagione ma credo che i meriti di Smith e qui voglio postare una bellissima foto sempre da Basket Inside con il muro dei tifosi della Virtus quando Roseto fece quella sorpresa fantastica 2016-2017 credo poi che la forza di Adam sia stata sciorinare nel suo anno da rookie a Roseto le sue qualità che gli hanno fatto guadagnare anche la massima serie in Grecia in questa stagione anche la serie A1 due anni fa insomma sta facendo una buona carriera non so dove potrà arrivare però mi ricordo cosa mi disse Neves Pachia Giorgio e poi ovviamente concludi tu dice ma avete preso il 2 di Georgia Tech perché lui andava dice nei 3-4 giorni liberi vado a vedere no l'NCAA perché io vivo no ad Atlanta e lui era il vice degli Hawks e andava a vedere Georgia Tech se avete preso quello lì lui può giocare sai com'era Neven no molto lui può fare il giocatorio e ci azzeccò perché arrivò questo Adam Smith giocò un pessimo precampionato come mi dichiarò Adam Smith l'arrivo di Amoroso e la riunione in cui Valerio gli disse da oggi i palloni importanti li decido io tu stai zitto e dice però questo mi ha aiutato molto a migliorare e quindi Adam Smith fu anche per lui come hai dichiarato per molti altri giocatori Roseto è stata una piattaforma di lancio molto importante non credi? sì assolutamente credo che la stagione migliore possiamo dirla di Adam Smith in Italia secondo me lui ha fatto bene Roseto ha fatto bene a Valerio Amoroso ma Roseto ha fatto bene anche a lui perché probabilmente lo ha disciplinato e lo ha inserito da fromboliere assoluto anche all'interno di un contesto di una squadra che non sempre la voce solista ti ricordi Vincent Esquiu o tanti altri folli che poi però messi in una squadra continuavano a cantare da soli e inevitabilmente facevano steccare tutto il resto del coro a Roseto lui ha imparato a essere un bravo solista e Roseto quell'anno ha giocato una stagione battendo unica squadra nei playoff anche la Virtus che poi vinse il campionato e allora ultimi 5 minuti ma ripeto non è un obbligo qui vediamo Remo Maggetti guardate che stile ripeto fine anni 50 inizio anni 60 contro gli Aviano Eagles in questo meraviglioso appoggio e quindi andiamo alla finale i due titani Boni con il 72% dalle semifinali Maggetti con il 58% dalla semifinale eppure anche qui vince Remo Maggetti 64% e quindi anche Super Mario si inchina alla leggenda ripeto lo hai detto anche tu vogliamo ripeterlo insieme due scudetti una coppa intercontinentale Coppa Coppe a Napoli e Coppa Italia era forse giusto tanto che nel 2015 Remo Maggetti e qui ringrazio il circolo filatelico numismatico di Roseto volevo mostrarti anche questa anche con i nostri amici ti dedica il Franco Bollo 27 agosto 2015 omaggio a Remo Maggetti cestista mostra filatelica la rosetanità nello sport l'annullo filatelico e sì quando ti dedicano un palazzetto è un annullo filatelico sei davvero leggenda vero Giorgio? sì sì in dubbio siamo costretti a ripeterci su Remo Maggetti basterebbe i titoli che tu hai elencato e che abbiamo elencato anche in apertura di trasmissione basterebbe dire che lui è il rosetano che ha vinto di più nella palla canestro ed è il rosetano a cui Roseto la sua città ha intitolato quello che è il monumento a Roseto il palazzetto dello sport il più grande d'Abruzzo è uno dei più belli e più grandi della palla canessa italiana quindi che Mario Boni è per noi che abbiamo vissuto gli anni gli anni di Boni è questo qui l'onore delle armi con la copertina di Super Basket l'onore delle armi per Mario ho le ultime due foto siamo a 56 vediamo se ce la facciamo solo per caricarlo su Instagram ho le ultime due foto Giorgio perché intanto vabbè abbiamo recuperato mi scuso ancora ma la penultima te la dovevo l'hai anche citata ma tu non sai mai quali foto mostriamo sai solo il canovaccio della puntata ma ovviamente te la dovevo e quindi 1998 non si può vestire peggio di così tu che intervisti tu che intervisti Remo Maggetti questo è un bellissimo ricordo davvero un bellissimo ricordo è l'ultima e sull'ultima visto che siamo a 57 ti do gli ultimi due dai cerchiamo di chiudere dentro i 60 io vi do intanto i saluti mi scuso e vi do l'appuntamento per lunedì prossimo Giorgio vi dirà che ora perché stiamo pensando bravo lunedì prossimo a che ora farlo grazie scusate il ritardo questa è Lavarese che nel 66 vince Maggetti uomo di Madrid squadra campione del mondo vince l'intercontinentale e Remo Maggetti è l'accosciato da sinistra il terzo e allora sull'uomo di Madrid le conclusioni di Giorgio Pomponi il saluto Giorgio hai un minuto e mezzo tu per chiudere a 59 grazie di tutto ci rivediamo sotto canestro Giorgio vi dice quando e Giorgio vi saluta anche meno troppo onore mi lasci troppo potere decisionale anche lì ci siamo consultati abbiamo questa persona che ci consiglia nell'Italia delle task force anche noi abbiamo una mini task force Luca di persone che grazie a Dio ci vogliono bene pensavamo con Luca qualcuno di voi ha detto adesso che c'è il lock out cerchiamo di andare in un altro orario perché alle 18 la gente lavora però abbiamo messato alle 21 c'è la prima serata alle 20 c'è il telegiornale alle 18 oggettivamente è presto quindi io ho pensato Luca ripeto consigliato da questa cara persona che le 19 potrebbe essere un orario giusto cominciare il collegamento alle 19 entrare in diretta alle 19.05 dopo aver accolto tutti quanti sul divano di casa dove io sono seduto la scrivania dove sei seduto tu e poi andare in onda fino alle 19.45 circa in modo da lasciare anche tempo per potersi collegare sistemare davanti al telegiornale è un momento in cui le notizie lo sappiamo sono importanti è un momento in cui tanti fanno la diretta e noi vi ringraziamo perché le nostre prime tre puntate tra tutti quanti i canali Facebook i social mio il social di Luca il social sotto canesso che vi invito a cliccare mettendo mi piace Instagram e YouTube hanno raggiunto tutte e tre le puntate fin qui circa 6.000 spettatori sono tanti e di questo vi ringraziamo soprattutto della simpatia dell'affetto e della pazienza beh io direi che ci possiamo vedere lunedì alle 19 Luca sei d'accordo? sono d'accordo 59 minuti e 15 secondi in questo momento ci vediamo lunedì prossimo alle 19 grazie scusate il ritardo grazie Giorgio un abbraccio e a te e va la leggenda del Roseto grazie